Ciao Massimo, questa volta siamo stati veramente grandi. Non è facile vincere a Punta Severi perché è un campo ostico, la squadra è super allenata con giocatori molto esperti come Cioni, Occhini, insomma Pelucchini. Noi eravamo un po' in emergenza perché il cacciatore era rientrato da tre giorni, poi l'espulsione di Gabriele Malatesta ci ha un po' compriato le cose, però siamo stati lì bravi, attaccati alla partita, Bonciani, Alberto Caponi, tutti, Matisse, questo ragazzo che piano piano sta crescendo, è importante per la classifica, è importante per il morale, per la società e penso che ora mercoledì abbiamo un'altra battaglia con Synergy e poi andiamo a finire la settimana a Montecatini ma lì andiamo più tranquilli. Ora guardiamo di preparare, di leccarci le ferite, lunedì siamo nuovamente a allenarsi e guardiamo un po'. Bene, forza Fides!